Sono state presentate stamattina le manifestazioni programmate per il Natale a Capodorlando. Si partirà già questo sabato con la banda di Babbo Natale per le vie del Centro Paladino, mentre domenica 8, giorno dell'Immacolata, sarà inaugurata la mostra dei presepi nella chiesa di Maria Santissima di Portosalvo. La rassegna dei presepi presso la chiesa di Portosalvo, che si arricchisce di nuove collaborazioni, e che invito tutti quanti a visitare con una chicca, un presepe di 7 metri, che ospitiamo in Sicilia e che tornerà a Napoli proprio subito dopo questo appuntamento di Capodorlando. Domenica 15 dicembre verrà avviato un itinerario turistico monumentale, diciamo un'attività in collaborazione con Naso. La più bella novità di questo Natale sarà però senza dubbio la proficua collaborazione tra amministrazione, associazioni e commercianti orlandini, oltre a quella con il vicino comune di Naso. Per la prima volta c'è stato un impegno forte da parte dei commercianti che hanno illuminato le vie di Capodorlando. Un impegno forte, ringrazio perché in effetti è un movimento partito da un primo gruppo di commercianti della via Alessandro Volta. Era stato chiesto la possibilità di installare delle luminarie. Via via si sono aggiunti quindi la via Piave, la via Vittorio Veneto, via 27 Settembre. Devo dire che è stato un grande segnale di amore verso Capodorlando. Capo in vita sta allestendo il villaggio di Babbo Natale. Dovrebbe essere il primo villaggio qui a Capodorlando. È realizzato per i bambini ma anche per i grandi. Diverse attrazioni per i bambini e anche dei piccoli laboratori in cui saranno intrattenuti i bambini. Sarà aperto tutti i giorni? Sarà aperto tutti i giorni, dall'8 dicembre al 6 gennaio. Ci siamo messi insieme e abbiamo creato un evento, per fare in modo che se ne parli sempre di più di questo paese. Perché l'obiettivo è fare in modo che la gente torni a Capodorlando e torni in maniera importante. Io spero che da questo evento in molti ci seguano, che capiscano che il futuro è l'unione. Non è la via Volta, è il paese che deve rispondere a questo appello. Sono sicuro che faremo grandi cose tutti insieme. Grazie a tutti.